Enrico Mattei Nasce ad Aqualagna in provincia di Pesero Urbino il 29 aprile del 1906 Il padre Antonio era un brigadiere dei carabinieri che si diceva avesse avuto il merito di arrestare il brigante Musolino In realtà lui era solo il comandante di quei due carabinieri che solo casualmente lo catturarono nell'ottobre del 1901 E fu un evento assolutamente fortuito Musolino aveva visto i carabinieri ed era fuggito anche se questi non lo avevano riconosciuto Inciampa su un fil di ferro viene raggiunto dei carabinieri che lo fermano chiedendogli perché scappasse e solo dopo verrà riconosciuto Una cattura comunque avvenuta dopo lunghissime indagini e molta pazienza E fu questo uno dei primi insegnamenti del padre al giovane Enrico Nella vita bisogna avere pazienza, molta pazienza perché le cose riescano La madre si chiama Angela Galvani ed è figlia di un importante costruttore ed è caduto in disgrazia L'abbassamento del livello sociale della famiglia aveva fatto sì che lei non fosse riuscita a sposare il rampollo di una delle perività poche famiglie ricche della zona Ma si fosse dovuta quindi accontentare di un modesto carabiniere che tra l'altro non aveva neppure tanta ambizione di migliorare la sua vita Accettando posti in città più grandi di Aqualagna Matrimonio frustrante quindi per lei Per combattere questa sua frustrazione si butta in opere caritatevoli portate a dare una mano a chiunque ne avesse necessità Una volontà di aiutare l'altro rafforzata anche da una fede religiosa a volte al limite del bigottismo La donna però è intraprendente e riesce a trasferire questa attività di consulenza in vere attività economiche Che aiuteranno la famiglia in una situazione non facile soprattutto quando il marito andrà in pensione Inevitabile che questa forte personalità non eserciti una certa influenza sul figlio Enrico Enrico è nato prematuro di sette mesi e viene tirato su con tanto amore e tante bottiglie di acqua calda Che messe nella sua culla fungevano da incubatrice I primi anni di Enrico sono rassicuranti, un clima carico di affetto tra la rocciosa solidità del padre e le cure amorevoli di mamma Angela e nonna Esther Educato all'amore per la tradizione, al rispetto delle amicizie e alla sacralità del lavoro I primi tre anni di elementari lui le passa da Qualagna In questo periodo il padre viene spesso trasferito ma lui per non cambiare scuola resta sempre con la nonna Alla fine però il trasferimento è inevitabile, arriva, è a casal bordino ed Enrico la prende male, non si ambienta E intanto però scoppia la prima guerra mondiale Il padre, cinquantenne, si salva dal fronte anche dopo Caporetto Il patriottismo di Enrico io credo nasca in questo periodo Un patriottismo che lo porterà per sempre a scrivere la parola patria con la P maiuscola Anche quando dopo la seconda guerra mondiale sembrava una bestemma Nel 1914 e nel 1919 arrivano due fratelli con i quali però Enrico non legherà Legherà poco, io credo a causa della differenza di età Legherà poco, ma è molto affezionato e lo vedremo più avanti Quando proprio all'interno della famiglia sceglierà i suoi più stretti collaboratori Nel 1919 il padre va in pensione Ci va appena possibile perché vuole intraprendere nuove attività per aiutare la famiglia Una serie di progetti che lui ha in testa ma che non andranno mai a buon fine Si trasferisce con la famiglia amatelica e si troverà ad abitare in una casa a fianco a quella della famiglia Boldrini Una famiglia agiata di artisti, di intellettuali Però i soldi sono sempre pochi Il padre manda il figlio Enrico a studiare a vasto Ma per mantenerlo deve rimettersi a lavorare come guardia caccia Enrico è un ragazzo intelligente ma demotivato E' il classico ragazzo intelligente che non si applica E' uno stato che lo porterà spesso ad essere insoddisfatto, refrattario ad ogni regola e imposizione Non studia, marina spesso la scuola e il suo rendimento risulta essere sempre molto basso L'unica attività nella quale eccella è la pesca Una passione che lo accompagnerà poi per tutta la vita In estate Enrico torna sempre ad Aqualine, la nonna Esther Alla fine il padre decide di ritirarlo da scuola Non rende e sprecare soldi inutili mente era una follia data le difficili condizioni nella quale la famiglia già versava E lo fa andare a lavorare Ed Enrico fa un po' di tutto Anche lì però all'inizio combina solo pasticci I dettori di lavoro spesso si lamentano di lui Il padre era in effetti convinto che su quel ragazzo non si potesse contare Aveva una totale mancanza di ambizione E quindi chiede aiuto ad un amico, Cesare Scuratti Che aveva messo in piedi una fabbrica di letti di metallo Una novità per l'epoca Enrico inizia a lavorare come operaio E le cose vanno un po' meglio Però il lavoro è duro Ed Enrico capisce subito che se vuole far carriera deve uscire di lì E per farlo deve rimettersi a studiare Oltre a questo realizza che se vuole migliorare la sua condizione Deve pensare di andare via da un paesino così piccolo Decide così con un amico e collega Gaetano Fabiani Di realizzare una specie di fuga a Roma Una fuga estiva Una fuga nel senso che partono proprio con i pochi soldi che hanno in tastiera Senza dire niente a nessuno E scoprono molto rapidamente che la vita a Roma è molto difficile Dormono in squallide camera d'albergo che hanno il solo pregio di costare poco Cercano persino di lavorare alla metro Goldwyn Meier come attori giovani Ci mette poco l'entusiasmo a trasformarsi in delusione La fuga a breve durata termina quando finiscono i soldi che si hanno portati dietro Vengono persino fermati dai carabinieri per vagabondaggio E a questo punto vengono recuperati dal padre di Enrico Dobbiamo attendere il 1922 per vedere il ragazzo sistemato di nuovo Ha trovato un lavoro stabile alle concerie Fabretti Entra come impiegato, pagato poco ma almeno si trova in una grande azienda di 150 operai Ci sta bene Diventa tra l'altro amico di Antonio Fiore che è il figlio di Giovanni, il titolare E nel 1926 ecco la svolta Si libera un posto da direttore tecnico E Giovanni Fiore decide di dare ad Enrico proprio quel posto Lui è un ragazzo giovane di 20 anni praticamente senza nessuna preparazione scolastica Ma la sua carriera in effetti è spettacolare Assunto come fattorino a 16 anni Era passato a operaio alla purga delle pelli a 17 Poi tecnico e addetto alla segreteria a 18 Vice direttore di laboratorio a 19 e infine a 20 direttori In questi anni inoltre matura, impara ad assumersi le sue responsabilità E tra l'altro arrivano i soldi che lui usa immediatamente per aiutare la famiglia Si prende la patente e arriva a guidare l'auto della vita Non male per un ragazzo che ha poco più della terza media L'anno dopo parte per il servizio militare E era riuscito a rinviare quell'appuntamento per due anni Ma adesso non ci si poteva fare più nulla Non si poteva rimandare ancora E viene mandato ad Orvieto nel reggimento dei Granatieri di Sardegna Come soldato semplice Del resto niente titolo di studio, niente scuole ufficiali E per lui è un ritorno nei tempi bui, la prende male Essere il direttore di una fabbrica importante è diverso da essere un bocciano in una caserma Ma deve solo portare un po' di pazienza Perché alla fine la sua leva durerà solo 6 mesi Mattei è di fatto il classico paraculato Giovanni Fiore smuove tutte le sue conoscenze E riesce a farlo tornare in fabbrica Torna e diventa pure direttore dell'intero stabilimento E il suo tenore di vita migliora ancora Se la gode insomma e fa bene Perché negli Stati Uniti sta arrivando il più terribile cataclisma economico del Novecento La grande crisi del 1929 Una crisi che colpirà prima le piccole e medie imprese E all'inizio del 1929 la conceria Fabretti Chiude Mattei si trasferisce a Milano Che in quel momento è la città maggiormente proiettata verso il futuro Alla parte un biscreto gruzzolo di 20.000 lire E' una bella sommetta per l'epoca E che gli permette di non avere fretta Viene assunto alla Maxmeyer una ditta tedesca Di smalti e solventi per concerie Ed Enrico si trova a dover ripartire dal basso Però è evidentemente bravo E gli affari gli vanno bene A Milano rincontra Marcello Boldrini Con la quale imbastisce una bella amicizia Alla fine degli anni 30 Enrico comincerà a pensare Che il fascismo che tanto all'inizio lo aveva affascinato Fosse fondamentalmente ingiusto e sbagliato Sono una giravolta di 180 gradi Dovuta proprio alla fragmentazione di Boldrini Che nelle molte serate passate assieme lo aveva riindottrinato Portandolo verso le più miti posizioni Del cattolicesimo democratico e cristiano sociale Così forti tra l'altro nella Lombardia di quegli anni Assieme sogliano un'Italia impegnata In un grande sforzo di sviluppo economico Alimentato non dal grande capitale Ma dall'iniziativa di piccoli nuclei produttivi Nuclei produttivi che però necessitano Di un controllo economico da parte dello Stato Perché gli automatismi nel mercato producono spesso troppe ingiustizie L'impesa pubblica deve quindi avere un ruolo centrale Preminente Idee che verranno sviluppate poi nel 1943 Alla vigilia della caduta del fascismo Ed elaborata nel cosiddetto codice di Camaldoli Ispirato da uomini come Dossetti, Lapira, Manoni Dicevamo che Mattei è bravo E di conseguenza riceve molte offerte di lavoro Tra le quali quelle della Lowenthal Che gli offre la rappresentanza generale per l'Italia L'enorme è valso avanti per lui E guadagna bene 1500 lire al mese Più i rimborsi spesa Vari premi di produzione Ma la cosa più interessante È che inizia a conoscere dirigenti e industriali di tutta Italia Nel 1932 Ecco il grande salto Decide di mettersi in proprio Ma per il momento Senza lasciare la Lowenthal Ha 24 anni Hama le sfide Fonda quindi un'azienda di produzione di sostanze per l'industria conciaria Che lui tra l'altro conosce molto bene E intanto si prende la rappresentanza in Italia per molte altre industrie straniere Basta aspettare poco Poco tempo Per vedere cadere anche l'ultima barriera mentale Mattei si dimette da Lowenthal e si trasferisce la sua residenza a Milano Investe tutto nella sua nuova azienda Si fa persino prestare dei soldi da alcuni parenti Anche grazie a prodotti innovativi molto apprezzati La sua azienda fa il botto Il fatturato cresce da 296.000 lire nel 1934 A 2.640.000 lire nel 1938 Insomma Mattei è diventato ricco E quindi si rimette a studiare a ragioneria Non è un secchione Preferisce uscire a cena con belle ragazze piuttosto che studiare Frequenta teatri Night Gli piace farsi vedere in giro con belle ragazze internazionali Quella che preferisce è Margherita Maria Paulas Detta Greta Viennese Molto bella Bionda Acchi azzurri Alta Enrico se ne innamora E i due decidono di sposarsi Guardate i due sono realmente molto innamorati Solo che Enrico ha un vero e proprio problema con la fedeltà Non reprimerà mai la sua natura da donnaiolo Le scappatelle extraconiugali Non per lui dei cattucci veniali Da quel matrimonio non arriveranno mai figli E questo devo dire sarà il più grande crucio per Mattei Forse per questa ragione non riuscirà mai ad accumulare denaro Per lasciarlo a chi? A Mattei forse il fascismo non piace Lo dicevamo prima Ma gli dà abbastanza credito Nel senso che per un imprenditore come lui Andare d'accordo con il potere è vantaggioso Il fascicolo della polizia politica nei suoi confronti E' un buon fascista Addirittura sembra essere un buon fascista E addirittura un buon squadrista Ma ci crede Mattei al fascismo? Io credo di no Ma in quel periodo se volevi fare affari Dovevi essere fascista Le persone di mentalità integerrima Anche all'epoca erano evidentemente pochine Senza considerare che la campagna in Abissinia Aveva fatto intravedere possibilità di nuovi e interessanti affari Ci trova non in Africa No no La campagna voluta da Mussolini Hanno apportato molte sanzioni contro il nostro paese Sanzioni che avevano spinto l'Italia verso l'autarchia E le industrie italiane iniziano a cercare nuove fonti di approvvigionamento E Mattei ci prova Ci prova nel corno d'Africa Ma non gli andrà bene Poco male Perché alla fine le sanzioni si aggirano E le materie prime non verranno in realtà mai a mancare in questa fase Poco come oggi Sanzioni alla Russia per non comprare il gas Noi lo compriamo da altri paesi che lo comprano dalla Russia Lo paghi in doppio ma lo trovi facilmente E gli affari per Mattei decollano Alla fine degli anni 30 Mattei è titolare di una solidissima industria chimica E cambia pure casa Una casa dove invita spesso personaggi come Amintore Fanfani, Ezio Vanoni, Enrico Falc, Rossetti, Lapira E tanti altri intellettuali della sinistra cattolica Amici di Marcello Boldrini La guerra però è alle porte Ma anche gli antifascisti sono convinti in una rapida vittoria dell'asse Guerra significa affari con l'esercito E gli affari in effetti migliorano ancora Scoppe la guerra E Mattei è un imboscato Aveva fatto solo 6 mesi di naia E non viene chiamato alle armi Perché è un importante imprenditore Mi tiene i piedi in due scarpe Fa il bravo fascista Ma frequenta anche ambienti diversi È pronto a tutto per restare a galla Qualsiasi cosa accada Il bombardamento alleato di Milano Per fortuna risparmia la sua azienda Che però è ferma per mancanza di materie prime Inizia a capire a questo punto Che l'asse non vincerà la guerra E decide di spostare la sua attenzione verso l'antifascismo Vuole farsi accettare da loro E quindi cerca in tutti i modi Di non contribuire con la sua azienda Allo sforzo bellico Arriva persino a pagare gli stipendi Con la fabbrica chiusa Questo accade perché Dopo il 25 luglio del 43 Dopo l'arresto di Mussolini Le fabbriche ferme erano requisite E i dipendenti disoccupati Gli amici di Mattei diranno Che lui è sempre stato antifascista Io non lo so ovviamente Non so se sia vero o falso Forse è anche vero Sono fatto il proprio interesse Finché il fascio era forte Lui ne approfittava E questa è una caratteristica di Mattei Che noi ci porteremo dietro Per tutto il racconto Certo diventerà necessario Rifarsi una virginità Per essere pronto Quando arriverà qualche cosa di nuovo Ma su questo lui è veramente bravo E non troverà nessun problema E quindi si avvicina alla politica E ovviamente cerca qualche cosa Di molto lontano dal fascismo Forse perché anche ormai Dopo l'8 settembre E la nascita della Repubblica Sociale Il destino del fascismo Sembra segnato Ma credo che non sia solo pragmatismo Forse veramente A questo punto della storia Lui ormai è convintissimo Va fatto la sua scelta antifascista Adesso quello che serve È un accreditamento A livello internazionale E alla fine lo troverà Anche grazie al solito Boldrin Decide che il modo migliore Per farsi conoscere È collaborare attivamente Con il movimento partigiano Però non è facile per lui Non ha esperienza militare Per gli altri capi partigiani Lui è un imboscato E in effetti lo era Però ha anche tante conoscenze E alla fine riesce a guadagnare La fiducia dei compagni Inizia quindi la sua battaglia clandestina Sceglie persino tra i nomi di battaglia Este, Leone e Monti Si impegna sul serio E intanto da rischiare l'arresto varie volte La sua attività è Sia sul campo Che nel cercare di rafforzare I rapporti con quelle persone Che lui crede saranno I dirigenti policiti del futuro Gente come Augusto De Gasperi Fratello di Alcide Giuseppe Spataro Enrico Falk Dossetti Fanfani Li abbiamo nominati anche prima Iniziano a progettare il futuro Nel frattempo Riesce finalmente ad ottenere L'agoniato diploma Di lagioniere Del resto Le amicizie Servono anche a queste Nel 44 Riceve l'incarico Di rappresentare La neonata di C Al Comitato Militare Dell'Alta Italia Che altro non era Che il braccio armato Militare Del Comitato Nazionale Di Liberazione Li impara a stare al pari Con gente come Raffaele Cadorna Nonno a Porta Pia Padre a Capoletto Pierluigi Longo Palmino Togliatti Non è facile Le formazioni democristiane Non sono a livello Di quelle comuniste Ma lui riesce comunque A sopperire All'eseguità delle forti Sfruttando La rete delle parrocchie Ma si pensateci All'epoca I parroci Erano punti di riferimento Dell'opinione pubblica Mattei capisce Che è il rapporto Dal basso Che può confrontarsi Con la guerrita Macchina militare Del Partito Comunista Ma c'è una cosa Nella quale Mattei è bravissimo Raccogliere denaro Raccogliere denaro Per finanziare In questo caso La lotta clandestina Comincia a lavorare Per la resistenza Contattando imprenditori Parroci Madri superiore Padri priori Abati Più propensi Ad ascoltare Un moderato come lui Che è un comunista Ed è così bravo Con i soldi Che lo incaricano Di gestire Il denaro raccolto Per la resistenza Nella quale Di fatto Diventa il tesoriere Alla fine del 44 Viene nominato Vice capo Di stato maggiore Addetto all'intendenza E viene felice Perché capisce immediatamente Che questi compiti Possono dargli Grande potere E influenza Sull'attività di comando Viene anche arrestato Mattei Una soffiata anonima L'aveva fatto scoprire La sede Del gruppo dirigente Della DC Per l'altra Italia Proprio finché Era in corso Una riunione I repubblichini Riservavano i capi Antifascisti catturati Un trattamento molto duro Del resto Era guerra Guerra vera I partigiani Compivano azioni Contro i fascisti I nazisti E questi si comportavano Di conseguenza Nulla che ci debba stupire Sembra che anche Mattei Dopo questo arresto Abbia ordinato Di uccidere un poliziotto Anche se il fatto Che sia stato lui Il mandante Non verrà mai Completamente dimostrato Però devo dire Che è abbastanza rivelatrice La reticenza Con la quale Mattei Risponderà alle domande Che gli verranno fatte Durante il processo Del dopoguerra Proprio su questo Particolare episodio Non vi parlavamo Dell'arresto Per fortuna I suoi compagni Riescono a farlo evadere Del resto Era prassi comune Quella di cercare Di liberare I capi Delle organizzazioni Arrestati Troppo pericoloso Fa di stare a lungo Nelle mani Di fascisti E nazisti Quindi Mattei È libero E decide però Di passare il confine Andare in Svizzera Meglio Far calmare Un attimo Le acque Prima di rientrare A Milano Il sistema Il sistema di racchiutamento Nelle fine Della resistenza Messo in atto Da Matteo Funziona Alla fine della guerra I gruppi democristiani Le brigate del popolo Possono addirittura Competere con quelle comuniste E questo accresce il suo prestigio Gestisce bene il denaro E riesce anche Ad organizzare le persone Il riassunto Del lavoro di Mattei Di questi anni Credo sia rappresentato Da un fatto La guerra è finita Mussolini è morto 5 maggio 1945 Le formazioni partigiane Sfilano a Milano In testa a questa fila Ci sono i 6 capi vittoriosi Uno di questi Enrico Mattei Al petto La bronze star Conferitagli dal generale americano Mark Wayne Clark La guerra per Mattei Adesso è davvero finita Nesce Come tutti Credo Con luci ed ombre Tante luci Certamente Ma anche con qualche ombra Come quella legata Alla storia dell'oro Di Mussolini Tesoro Ufficialmente consegnato Alla Banca d'Italia Ma vicenda Mai del tutto chiarita Dato che Una parte Di questo tesoro Sembrava sparita nel nulla Mattei Chiamato a testimoniare Sulla vicenda Se la caverà Dicendo che lui Era responsabile Dei denari raccolti Dal 4 dicembre del 44 E di quel tesoro Gli erano prevenuti 160 sterline E 100 milioni Tutti regolarmente registrati Del resto Non sapeva nulla Un'estero nella quale Voleva liberarsi in fretta Anche perché per lui Era venuto il momento Di buttarsi seriamente In politica Ma questo Lo vedremo nella prossima parte Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti